E quando con ste ducosce fendo la folla e me se piazzano l'omini davanti, me fanno il gesto classico, tipico de sto periodo, questo. Ma che è il gioco dei mimi? Ma che me vuoi dire? Che hai incontrato due cinghi che si baciano? Che è? Che te sei schiantata una cozza sulla camicia e mutata dove si lavava? Che è? Ma che uomo sei? Ma che uomo sei? Dice, come che uomo sei? Sono l'uomo arfa. Ecco, pia la macchina e sgomma. Ma dove vai con me questo gioco? Ma che è? Ma che è? Ma che vuol dire? Ma dico, ma che vuol dire? Cioè, come che vuol dire? Vuol dire ti cuoro. Mi hai spezzato il cuore e ti cuoro. Ah, questo è ti cuoro. Ti ho spezzato il cuore. E tu lo sai che vuol dire questo? Te fè, moro.